Allora, rieccoci, parliamo un pochino del nuovo coronavirus, classificato 2019 NCOV. Si tratta di un virus della famiglia dei coronavirus, o comunque fa parte di un insieme definito coronavirus, molto simile a quello della SARS, ma non è esattamente la stessa cosa. Ora, io vi metto sovraimpressione una immagine dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non spaventatevi, fa vedere semplicemente che è molto più contagioso, ma non ha la stessa potenza della SARS. Bene preoccuparci, vediamo poi perché, ma non è che è la peste bubonica, non è la spagnola, chi viene infettato può essere che neanche arriva a prendersi la polmonite. In Cina, a Wuhan, dove sono stati registrati la maggior parte dei casi, ed è l'unico posto, la Cina, dove ci sono stati dei morti, bisogna tener conto che buona parte dei pazienti erano persone che avevano comunque già dei problemi che avevano compromesso il loro sistema immunitario. Nel mondo c'è solo un caso, in Germania, se non ricordo male, di un bambino. Al momento, in tutti gli altri casi, si parla solo di adulti. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone che hanno compiuto, in media, scusate, i 55 anni. E questo è un punto lo stesso molto interessante, ma perché ci preoccupa senza necessariamente cadere in facili allarmismi? Scusate, io ogni tanto guardo nel computer perché non sono un divulgatore, sono un giornalista, quindi non riesco a farvi un discorso scorrevole senza riguardare quel che ho scritto. Trovate a proposito la pagina TAG su Open, che ho curato io, che sto a curare e a tenere aggiornata sulla questione. Ora vi leggo quel che scrive Pierluigi Lopalco, presidente di Patto Trasversale per la Scienza, che tra l'altro è un epidemologo, quindi qualcosina la saprà. Tra l'altro è una persona molto scrupolosa, molto attenta ai termini che usa quando si tratta di divulgazione scientifica. In questi giorni si è aperto anche tra gli esperti un dibattito che potrebbe essere sintetizzato così. Si parla tanto del coronavirus e l'influenza e la malaria potremmo definirlo una soltra di benaltrismo virologico. Lo scopo è nobile, si cerca di inserire l'attuale emergenza sanitaria nel giusto contesto per diminuire il senso di panico generalizzato che sta accogliendo molti. Ma è corretto da un punto di vista tecnico e scientifico? Certamente patogeni come l'influenza, la malaria o anche l'opneumococco in questo momento nel mondo mietono più vittime di quante non ne abbia fatte il nuovo coronavirus nello stesso periodo. Allora perché parlarne tanto? Perché dichiarare un'emergenza mondiale per questo virus? Semplice, è un nuovo virus. Se riuscisse ad adattarsi alla popolazione umana e diventare dunque endemico, sarebbe un ulteriore patogeno con cui la sanità pubblica dovrebbe fare i conti. Ed un virus che causa polmonite in una popolazione fondamentalmente vergine dal punto di vista immunologico non è uno scherzo in termini di impatto globale. Mettiamola così, ci basta influenza e preumococco da combattere ogni giorno. Di un nuovo virus vogliamo davvero farne a meno. In sostanza dobbiamo evitare che diventi endemico. Questo quindi è il punto ed è una cosa che è venuta fuori anche in un recente articolo di Nature che tiene conto delle analisi che vengono fatte che appunto questa è una delle ipotesi almeno in campo che possa mutare adattandosi al nostro sistema immunitario e ce ne troviamo un altro da tenere sotto controllo che magari appunto mutando diventa anche più forte e noi questo ovviamente non lo vogliamo. E poi sono venute fuori diverse teorie di complotto diverse imprecisioni vengono fatti diversi tipi di allarmismi e analizziamo le principali due da una parte si dice che il virus è venuto fuori più o meno consapevolmente da un laboratorio biologico sito in Wuhan dall'altra si tira fuori un complotto per brevettare un nuovo vaccino e quindi guadagnarci sopra. Ora veniamo alla prima versione complottista a cui tra l'altro stizzano l'occhio anche direttori di giornale come Paolo Ligori per esempio perché recentemente al Tgcom24 si è parlato appunto di un'ipotesi delle indiscrezioni che avrebbe fatto trapelare il Washington Post di un ex agente dei servizi israeliani che si intende di guerra biologica il quale avrebbe affermato che questo virus verrebbe fuori e lo afferma anche Ligori nel suo intervento da un laboratorio che si occupa un laboratorio segreto che si occupa di guerra a chimica e insomma è lì l'origine e tra l'altro si cita anche un articolo di Nature del 2017 e quindi attenzione potrebbe essere che è andata così oppure no vedete voi fatevi un'idea allora questo è molto interessante perché prima che se ne fosse occupato Ligori circolavano su Twitter affermazioni di questo tipo dove si parla anche di vaccino brevettato e per quanto riguarda il vaccino brevettato ci arriveremo parlando appunto del complotto o della vendita dei vaccini stiamo a questa indiscrezione di questa presunta gola profonda il giornale è il Washington Times che non è proprio come il Washington Post il Washington Post è il giornale del Watergate tanto per farvi capire e effettivamente si riportano le affermazioni di questo esperto di guerra biologica tale Danny Shoham ora anche senza sapere se lui la pensa esattamente così oppure no se fa davvero questo genere di analisi non importa perché il genoma di questo coronavirus è pubblico è stato già reso pubblico da un paio di mesi e viene studiato ci sono già 50 studi sul coronavirus comunque non solo sul genoma anche studi epidemiologici soprattutto epidemiologici su come si starebbe come si sta diffondendo uno studio in particolare si era focalizzato sull'origine su come si sia generato su come il suo RNA sia mutato e hanno trovato nel DNA che molto probabilmente c'è un coronavirus tipico del pipistrello più un tipo di coronavirus ancora ignoto che non si conosce poi i ricercatori si chiedono quale sarà l'animale in cui è avvenuta questa mutazione e loro ipotizzano che debba essere il serpente su Nature recentemente David Ciranoschi dà voce a diversi ricercatori che criticano questa ipotesi perché è riscontrato che praticamente nei serpenti questo tipo di coronavirus non attaccano insomma non è possibile una cosa del genere poi il resto si basa su altri studi ed è assolutamente corretto ma appunto questa ipotesi del serpente non sta né in cielo né in terra la cosa interessante è che Ciranoschi è anche l'autore di quell'articolo di Nature del 2017 che viene citato anche da Liguori effettivamente in questo articolo firmato da Ciranoschi si parla delle preoccupazioni nella comunità scientifica riguardo alla costruzione di un laboratorio biologico per la ricerca su virus pericolosi su patogeni pericolosi come quello della SARS o della MERS perché per la prima volta veniva fatto nella terraferma in Cina queste erano le preoccupazioni tra l'altro il progetto è stato realizzato in collaborazione con i francesi e fa parte di una rete di altri laboratori di questo tipo nel mondo ce ne sono negli Stati Uniti anche in Giappone per esempio e cosa interessante è in una struttura universitaria non una caserma perché si è parlato anche di un laboratorio militare segreto non è così e non è guerra biologica o chimica è un laboratorio come ce ne sono altri nel mondo per studiare questo genere di virus tutto qui è il nuovo studio di cui parlavo invece sulle origini dove si studia il genoma che è pubblico non c'è nessun ricercatore che tira fuori l'ipotesi di un'origine artificiale nessuno nemmeno Ciranoschi fa un accenno non c'è dubbio sul fatto che tutto sia partito dal mercato ittico della città di Wuhan tra l'altro guardando su google maps non è neanche nel centro della città questo laboratorio Liguri dice che è nel centro della città però a me così a spanne diciamo non sembra proprio esattamente al centro tra l'altro ma perché caspita vai a fare un laboratorio segreto per la guerra chimica nel centro di una città va bene però queste sono opinioni personali allora abbiamo accenato a questo Shoham cosa dice esattamente beh i colleghi fact checker del circuito di pointer che riunisce tutti noi debunker in tutto il mondo hanno contattato effettivamente Shoham e Shoham afferma che lui non dice questo anzi lui ritiene molto probabile lo stesso che sia partito dal mercato ittico il focolaio lui faceva delle ipotesi così ma non riguardavano neanche questo caso insomma c'è la smentita anche di Shoham quindi caso chiuso direi non può essere partito da quel laboratorio e per carità l'ipotesi di per sé prima poteva anche essere legittima perché si tu vedi che c'era un laboratorio ok vuoi vedere che si è partito da lì per sbaglio magari qualcuno non ha usato le giuste precauzioni è legittima questa ipotesi però affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie diceva Segan e aveva ragione noi non abbiamo assolutamente niente che dimostri questo neanche andando ad analizzare il DNA ok proprio questa cosa non ci risulta andiamo a vedere l'altra tesi perché sempre su twitter circolano questo genere di chiamiamo le notizie si parla di Bill Gates Bill Gates potrebbe essere coinvolto anzi potrebbe essere il mandante di questa fuga del virus da questo fantomatico laboratorio segreto perché lui già ci guadagna fattura con la vendita dei vaccini nel mondo signori e lui fa parte insomma del gota non so sarà rettiliano credo non so fa parte insomma dei poteri forti che hanno interesse a far scatenare questa epidemia anzi chiamiamola pandemia manco fosse la peste bubonica tra l'altro comunque non è sbagliato usare il termine pandemia però se lo usa magari un esperto in un contesto giusto chiariamo perché anche di questo si parla un conto è l'epidemia e quando c'è un aumento significativo di casi rispetto a un periodo precedente in un'area in una regione circoscritta nella pandemia questo avviene a livello mondiale ora gran parte dei casi e temo si siano superati anche i 200 morti ormai sono in Cina ok maggioranza dei casi ma proprio stragrande maggioranza dei casi e purtroppo anche dei morti nel senso che sono tutti lì comunque i morti a Taiwan ci sono 8 casi in molti paesi c'è solo un caso in altri come la Germania ci sono 5 casi in Italia parliamo solo di una famiglia di turisti cinesi possiamo parlare di pandemia non so ripeto non è proprio del tutto scorretto però magari a livello giornalistico meglio restare ancora col termine epidemia io ve lo dico anche perché di queste cose parlo con virologi epidemiologi infettivologi non è che sto esprimendo parire i miei personali ve lo dico da persona che occupandosi ormai da una settimana di questa cosa ha dovuto consultare diversi esperti detto questo com'è che è avvenuto questo complotto di Bill Gates ne parla soprattutto la cruna del lago non so da dove trae le sue prestigionese fonti e cita anche una simulazione del john hopkins center riguardo una pandemia però questa pandemia di coronavirus per carità parte dal brasile ed è una pandemia vera e propria cioè con si prevedono 65 milioni di morti ok in questa simulazione ma anche gli studi più pessimisti come quello uscito recentemente pubblicato recentemente o meglio come quelli di cui parla un recente articolo pubblicato su nature parlano sì di decine di migliaia di casi anche centomila casi ma non di 65 milioni di morti non di una pandemia di questo tipo parliamo ripeto delle proiezioni più pessimiste quindi non ha senso citare il John Hopkins e sicuramente parlare di pandemia nel momento in cui si citava il John Hopkins Center non aveva assolutamente senso ma come che si arriva a Bill Gates beh andiamo a vedere innanzitutto come che si sviluppa questa narrazione perché da una parte abbiamo la dissonanza cognitiva quindi abbiamo due realtà contrastanti una forte una debole quella forte la Cina è una potenza mondiale quella debole sì ma come che si lascia sfuggire un'epidemia di questo tipo sicuramente per equilibrare la cosa possiamo dire che ci sia un complotto in alto quindi hanno diffuso volontariamente il virus da un laboratorio segreto e il movente è guadagnarci magari coi vaccini e cosa c'entra esattamente Bill Gates ce lo spiegano adesso quelli della cruna del lago prima di cominciare teniamo presente una cosa perché gira anche questa storia non è assolutamente vero che questo virus era già noto e brevettato anche quindi ci fosse anche il brevetto già del vaccino perché come abbiamo accennato prima il genoma del virus è stato reso pubblico e viene studiato quindi non è possibile che ci sia un brevetto chi ne parla linka anche un presunto brevetto ma è un brevetto di un coronavirus riguarda un vaccino per un coronavirus che colpisce i polli ok non c'entra niente con questo nuovo coronavirus proprio niente di niente chi lo fa non ha proprio letto il brevetto in questione la simulazione di cui parlavo prima è stata svolta per conto del World Economic Forum e della fondazione Melinda e Bill Gates quindi vedete già cominciano a saltare fuori i primi indizi nel post si parla di somiglianze impressionanti con quello che sta accadendo oggi e non è vero abbiamo appena visto che non è assolutamente vero perché queste fondazioni globaliste si interessano della diffusione del coronavirus beh andiamo a vedere un pochino il World Economic Forum in che Cricca si è andato a mettere fa parte in pratica del gotta delle elite finanziarie mondiali che si sono riunite nel consueto appuntamento annuale a Davos in Svizzera e chi c'era tra gli ospiti di Davos beh c'era Greta Thunberg per esempio lei è una dei tanti sostenitori delle teorie del cambiamento climatico e questo è un eufemismo che usa l'autore della Cruna del Lago per definire quel 97% di studi che confermano il riscaldamento globale e la responsabilità umana tra le colleghe di Greta Thunberg c'è anche Verena Brunschweiger è stata nel centro della polemica perché avrebbe sostenuto che dobbiamo smetterla di fare i figli e ne avrebbe giovamento il pianeta e la cosa interessante è che l'autore della Cruna del Lago cita Zero Edge come fonte che è un noto sito complottista ci trovate di tutto sci e chimiche 11 settembre la qualsiasi e quindi vedete noi abbiamo un piano per sfoltire l'umanità e per vaccinare i sopravvissuti con i vaccini di Bill Gates e si accenna anche al fatturato in decine di milioni che otterrebbe Bill Gates nella vendita dei suoi vaccini ma se andiamo a vedere di cosa si parla esattamente noi finiamo e questo è una fonte della Cruna del Lago in un articolo della CNBC che parla di un ritorno pari a 10 miliardi di dollari in termini di benefici economici a seguito dei finanziamenti della fondazione di Melinda e Bill Gates non si parla del fatturato della fondazione si parla dei benefici economici che avrebbero i paesi specialmente quelli in via di sviluppo grazie a un piano vaccinale perché voi capite costa molto di più alla sanità di un paese dover curare dei pazienti piuttosto che vaccinarli perché non si ammalerebbero molto molto banalmente ma andiamo a vedere cosa afferma proprio Bill Gates aiutare i bambini piccoli a vivere ottenere la giusta alimentazione contribuire ai loro paesi questo ha un ritorno che va oltre ogni tipico ritorno finanziario e sono affermazioni più che condivisibili però sempre in nome della dissonanza cognitiva e di un altro fenomeno che è il bias di conferma quindi dover trovare ogni volta e adattare solo le fonti che si accordano con la nostra visione del mondo riusciamo a distorcere anche queste frasi e quindi vedete c'è Bill Gates al centro di tutto quanto ecco vedete attraverso questi due filoni complottisti siamo riusciti anche a spiegare un pochino come stanno esattamente le cose e quali sono le conoscenze a riguardo che relativamente sono poche tenete conto anche del fatto che tutti questi studi stanno uscendo a tempo di record visto l'emergenza ma normalmente ci vorrebbe molto più tempo quasi un anno per far uscire uno studio regolarmente revisionato da esperti ok per quello non ha senso biasimare più di tanto anche quelli che facevano l'ipotesi dei serpenti perché davvero il tempo a disposizione è relativamente poco però diciamo che questa cinquantina di studi di cui ha parlato anche Nature recentemente si corroborano abbastanza tra loro poi appunto ripeto c'è a disposizione il genoma si spera un giorno di trovare anche un vaccino si spera di trovarlo il più presto possibile ricordo anche un'altra cosa è stato confermato recentemente che il contagio avviene anche tra pazienti asintomatici e questa è una cosa importante che è bene che i ministeri della sanità anche quello italiano tengano in considerazione nell'effettuare i controlli negli aeroporti perché è importante che non ci siano a disposizione informazioni obsolete quindi noi sappiamo anche questa cosa sappiamo che il suo contagio la potenzialità del contagio è elevata ma non è virulento tanto quanto quello della SARS un altro elemento su cui si discute è appunto la questione dei bambini perché per il momento c'è solo un caso in Germania di bambino persino a Wuhan dove mancano i kit scarseggiano per fare le diagnosi persino lì ancora non sono stati registrati dei casi che riguardano dei bambini e questo è un elemento importante su un pezzo mancante del puzzle secondo quanto afferma lo palco su facebook su cui bisognerà ritornare in seguito spero di essere stato abbastanza chiaro io qui ho un po' di rumori dalla strada un po' di televisione dei coinquilini in sottofondo non so cosa sentite o meno ma ha tante auguriamoci che questa epidemia che questa emergenza si risolva il prima possibile è che non sia gravi per il resto ragazzi se avete trovato interessante questo video mettete un like per tenervi aggiornati iscrivetevi al canale e spuntate la campanella altrimenti non vi arrivano le notifiche e mi raccomando piantatela di condividere cazzate di condividere Grazie a tutti.